buongiorno a tutti oggi giovedì 16 aprile 2020 giorno 38 il giorno 40 della quarantena si avvicina sì devo dire che un pochino mi sono rotto le balle però per rispetto di tutti quelli che sono a casa non posso dirlo anche se l'ho appena detto in realtà sì ho voglia di viaggiare un pochettino di muovermi di dormire in un posto diverso ogni notte però dai qua tutto sommato non è così male anche oggi cielo azzurro speriamo che tenga azzurro speriamo che ci sono azzurro speriamo che ci sono un piatto di pasta col burro niente di che però buono con un po' di spezie di norcia solo che io mangio sempre troppo in fretta e quindi mi si forma un piattone qua devo dire che avere la fontana vicina è una grandissima comodità se ce l'avessi avuto anche nel primo mese sarebbe stato tanta roba stamattina ho montato un video per lavoro e non avevo assolutamente voglia erano giorni che dovevo finire di montarlo ed ero proprio in zero sbatti non so perché cioè a volte ci sono dei video delle cose che non mi stimolano e scusate ora c'è il sole lo so e quindi andavo avanti ogni volta rilento facevo dei piccoli pezzi alla volta perché non trovavo l'ispirazione e non sembra ma montare un video fare delle foto quando non sei ispirato non farlo cioè piuttosto evita non fare niente straiati fatti una doccia fredda perché produci poco e male quindi anche in questo settore comunque a volte ci sono delle cose che non piacciono non ti va di fare sherry adesso penso che prenderò la roba pulita la metterò a posto nei pensili e poi toglierò i cordini accenderò il motore e andrò su oggi è un po' coperto è una giornata un po' boh non coperta velata un po' un po' di nebbiolina un po' così un po' di no GoPro arresta video so 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 Sì 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 attenta bene è arrivata l'ora del frullatino frullatino banana ok banana e poi mela c'è un piccolo problema ho finito il latte io vabbè ci metto un po' d'acqua ci metto anche un po' di no è possibile che il latte l'ha finito si eh si pirla voilà pronto buono buono anche senza latte